benvenuti alla video recensione della babyliss i pro 235 intense protect st 387e una piasta per capelli di fascia di prezzo media che costa circa 40 euro se voleste acquistarla trovate questa pagina un link all'offerta cominciamo facendo qualche considerazione sulla struttura come potete vedere il design della punta è arrotondato questo vi consente quindi di stirare i capelli ma anche di fare i capelli mossi e creare quindi delle onde morbide noi l'abbiamo provata su capelli di lunghezza media e abbiamo constatato che essendo queste piastre interne lunghe circa 12 centimetri si procede effettivamente in maniera abbastanza veloce perché vedete che è possibile prendere una porzione di capelli larga se volete però stirare in maniera abbastanza spedita capelli particolarmente lunghi meglio orientarsi su modelli con piastre più larghe come questa qui vediamo poi che c'è il blocco piastre che vi permette di lasciare la piastra in posizione chiusa e bloccata questo è molto utile per riporla o trasportarla in maniera sicura e il cavo è oltre girevole quindi vi lascia una libertà di movimento molto buona per quanto riguarda invece le caratteristiche vediamo che questa dicitura ionic wet and dry ci suggerisce due cose la prima è che questa piastra è utilizzabile anche su capelli bagnati o umidi la seconda informazione che è dotata di ionizzatore un sistema che va a ridurre l'effetto crespo dovuto all'elettricità statica del capello a questo poi si aggiunge il rivestimento di queste piastre interne chiamato dall'azienda diamond ceramic che è un la ceramica un materiale che aiuta a non stressare i capelli e distribuire in maniera uniforme il calore come potete vedere qui ci sono due pulsanti con il pulsante protect possiamo scegliere diversi livelli di temperatura che sono 140 160 180 e 200 gradi con intense invece andiamo agire in maniera più potente alzando la temperatura su due livelli che sono 220 e 235 gradi il range di temperatura è quindi ottimo coprendo da 140 a 235 gradi e quindi adattandosi a diversi tipi di capelli e ai diversi stili che vorrete realizzare in dotazione trovate poi anche questo tappetino termico molto utile per poggiare la piastra anche quando molto calda su qualsiasi superficie senza rovinarla a proposito come potete vedere anche quando impostata su temperature alte l'esterno resta freddo e quindi non ci si scotta maneggiandola concludiamo dicendo che possiamo ritenerci molto soddisfatti dalle prestazioni di questo modello e che questa piastra per capelli la consigliamo in particolare a chi abbia l'abitudine di passare la piastra subito dopo lo shampoo visto che si può utilizzare anche su capelli umidi o bagnati considerata poi la punta arrotondata e l'ampio range di temperatura impostabile la consigliamo a chi voglia farne un utilizzo condiviso tra persone con tipi di capelli e anche esigenze di stile diverse grazie per averci seguiti alla prossima